ciao a tutti bentornati sul canale dei blades oggi siamo qua per lo sbustamento di expo in anteprima andiamo col primo kit saranno 40 buste più questo bellissimo matt e abbiamo anche le promo speriamo di trovare qualche bella secret andiamo con la prima vediamo cos'è è una magia ed è super non ci interessa andiamo veloce vediamo per lo più le secret ancora super quelle più interessanti sono sicuramente il link metalfosis e il drago teschio magari i soldi il link nobel knight cerchiamo sono quelle più interessanti il link gem knight questo non è male è carino si fa qualche ftk interessante l'ultima busta del primo kit traccia veramente brutto 4 sugar una ultra eccola qua i soldi questa è carina non male questa verrà molto giocata ecco ecco uh super buém per ciliano la ciliano anche un link e un'altra volta questa è qui clara ruska Non sappiamo neanche che fa, facciamo due Ultra, sempre a Madoka sembra sta carta, vai zoom zoom, Link, Zephra, non Zephra, questo è quello bestia spirito sperando che non torni mai, e una super. Li divertite. Si si esatto, vado a scrivere entrambi. Super, Zephra e anche il Clifford, questi sono due carini, soprattutto il Clifford, magari in abc, guarda che parte lo butteranno. Si, fa Metal Tron. L'Iceborn per Villa, e poi, oddio ce li sentiamo presi per il culo, questa era la 0,99, deve essere Crystron, invece. E il secondo che ti è andato, pure con 4 super e una Ultra. Stiamo andando male. Abbastanza male, però ce ne sono ancora parecchie. Ancora lui, ha visto un blu ed è Ultra. quello della promo, cioè del tappetino. Tre Ultra, però. il clove per il fuoco e la trappola per Vendorot. i Secret non vogliono uscire. Dopo c'è una Secret, l'abbiamo già visto. i Swarm, no, è solo Super. Allora, ho pure ingannato. Abbiamo una rara, dopo il blu. Oh! Abbiamo beccato quella buona. Non male, non male per niente. Probabilmente sarà la carta più costosa dell'espansione. Non è Secret quella. Secret Secret. Un altro Gem Knight. Vabbè, difficile qua. Si è riuscito altro quasi. Altro kit. Si è risollevato parecchio con quella cassa. Speriamo di beccare anche il Dragoteschio. E ce l'abbiamo tutte quelle belle. Ancora il gattino con la Chimera. E una Super. Piccola Chimera Pigra. Un po' come... Niente sulla Pianto oppure la Stella Marina per fare. Una rara. Super. Ancora questa Chimera. Un pendolino. Un pendolino su. Genio. E ancora... Quello del tappetino. Che non c'è neanche che fa. Però è sul tappeto quindi. Però è sul tappeto quindi. È sul tappeto quindi deve essere sicuramente scarso. Questa è qua una delle magie più belle come artwork. Monterey Vendred. Solo per questo qui. E ancora lui. Due di fila. Incredibile. Quindi veramente non farà un cazzo. Un cazzo. È il terzo che ci viene. Un altro pizza. Per ora. Svariate Ultra. E una Secret. Altergeist. Mi sa che è il primo cash. Quanto mi mangia sta cosa? Brava. E super. Brava. Ancora una Ultra. Questa volta. Mech Cavaliere. Carino. Ancora l'Archidamona. E una Super. Ma quante Secret dovrebbe uscire in un box? Non c'è un numero preciso perché non è come un box. Quasi sono kit. Diciamo che tra le 3 e 4 dovrebbe essere il numero più giusto. Però a volte può uscire neanche uno come nessuno. Ancora una Super. Ancora. Facciamo che questo qua non è il kit più fortunato che abbiamo visto. E ancora tutto. La fotocopia del pacchetto di prima. Quello di Levels War qua. E un altro po' la sua. Questa è la prima cash. La rara. E ancora il jump nut. Succediamo da qui Un altro risolto Davvero tantissime ultra Abbiamo un giro Trappola E sopra la verde Abbastanza maluccio Almeno abbiamo beccato La secret giusta Due Electrum Abbiamo beccato digitalmente La secret giusta Almeno Almeno E super E la super Ancora questa trappola Un'altra ultra Che è la prima che ci esce Molto carina L'altra È un altro mazzo Low budget Molto molto carino Con le ultime Cinque buste Qui No super E' la blu l'ultima Usa un rituale Quindi il nuovo archetipo Vendere sempre Ancora Ancora Il chimera Blu Blu E fa schifo Ancora lui Beh solo due secret Però quantomeno Quanto sia la migliore Che si poteva trovare Come ultra Come ultra L'abbiamo beccato E parecchio Abbiamo preso Una Bisogna un'altra Due di sotto qui Sai che sta anche Il terzo Sì All'inizio Fatizia strana Qui Servendo i soldi Quindi non male Tre Otto ultra Due secret E che secret Non c'è male Per questa Breve antiprima Di Expo Prossimamente Tutti quanti I negozi Specializzati E non Per lo sneak Di fine mese E poi Tutti quanti I posti Finché non li troveremo Sui banchi Di tornei Sicuramente Troveremo lui Il dragoteschio E di tornado Un sacco di carti Molto interessanti Per questa espansione Ci vediamo al prossimo video E un saluto Da Blade E un saluto E un saluto E un saluto